Scott Pilgrim ha fatto la evangelionata e a molti questa cosa non è proprio piaciuta. Da qualche giorno è uscita su Netflix la serie anime di Scott Pilgrim. Per non fare troppi spoiler diciamo che non è quello che i fan si aspettavano al 100% perché non è proprio un adattamento fedelissimo al fumetto ma si prende più la libertà di fare il cazzo che vuole fondamentalmente. La cosa più simile a cui compararlo è proprio Evangelion, quello che hanno fatto con i rebuild 1.0, 2.0, 1000, 1000.0. E insomma lo sappiamo che Evangelion è una saga amata da tutti senza nessun problema, no? E quindi sia per Evangelion che per Scott Pilgrim entrambi i fandom si sono abbastanza incazzati per queste due cose proprio perché loro volevano quello che già sapevano di volere, voglio la cosa che già conosco. Invece no, vaffanculo, sono contento. Se vuoi saperne di più vai al mio video su YouTube che è bello e se non lo vedi lo cancello. Fa anche rima, non l'avevo fatta apposta. Grazie.